Con lo scopo di approfondire il tema della Grande Guerra, la Mediateca Montanari-Memo si svolgerà un secondo ciclo di incontri. Se nelle lezioni e conferenze del novembre scorso si era concentrata l'attenzione su cosa fu la Prima Guerra Mondiale, cioè su cause, svolgimento, conclusione e conseguenze, in questa serie il focus sarà su come fu vissuta. Non tanto fattori quanto persone, non tanto processi quanto esperienze e impressioni. destini, ruoli, nazionalità diverse che si devono confrontare con un avvenimento tragico e straordinario allo stesso tempo che incide fortemente, forse in modo indelebile, sulla vita di ciascun individuo. Il primo incontro è previsto per giovedì prossimo, 7 maggio, e a seguire per gli altri tre giovedì successivi del mese di maggio. Per cui andiamo a finire sostanzialmente proprio ai 100 anni esatti dall'inizio della guerra da parte dell'Italia. E appunto inizieremo con la presentazione di tre libri, tutti pubblicati recentemente, tutti di autori, professionisti e ricercatori locali, per chiudere poi con una rassegna sul vissuto della città di Fano della guerra, letta attraverso le cronache dei giornali locali.